Alto Adriatico Motori d'Epoca si tiene il 19, 20 e 21 aprile a Pordenone Fiere. Prenota il tuo spazio espositivo. I macro settori espositivi, che la rassegna e Mostra Scambio può ospitare, sono molteplici, tutti legati dalla passione e dall'interesse verso i mezzi d'epoca. Mostra Scambio, settore in cui concessionari, saloni, ma anche privati, avranno la possibilità di vendere i mezzi storici. Mostra Club Autostoriche, un'area interamente dedicata ai club, coloro che mantengono viva la passione, la conoscenza e la storia. Settore Commerciale, rivenditori, officine, negozi specializzati, che venderanno accessori, optional, componenti e molto altro. Mostri in itinere, mezzi militari, mezzi delle forze dell'ordine, barche, aerei, bus, i mezzi che hanno fatto la storia. Eventi e workshop, con importanti collaborazioni del mondo, dei motori d'epoca e non solo. Compila il modulo sul sito. Ti invieremo tutte le informazioni per partecipare, come espositore. Oppure contatta il nostro ufficio commerciale, per una proposta personalizzata.